La tappa molto importante di Beach Volley rafforza l'importanza della palla a volo sulla regione Abruzzo? Direi assolutamente sì, questo era un impegno che ci eravamo presi e che volevamo fare l'anno scorso, 2020, poi la pandemia ci ha bloccato e quindi adesso ci proponiamo con questo importante evento che vuole essere un segnale di ripartenza, rimettere la palla a volo al centro, rimettere l'Abruzzo al centro. Come abbiamo detto con l'assessore, è fondamentale che in questo gioco di squadra ci si mettano insieme tutte le componenti politiche, federali, economiche, delle amministrazioni locali per riuscire a fare le cose per bene. Che giornate saranno? Saranno giornate importanti da un punto di vista tecnico di assoluta qualità. Noi apriremo mercoledì e giovedì con la tappa del campionato Under 20, quindi la migliore gioventù della pallavolo maschile e femminile, e poi invece venerdì, sabato e domenica i migliori biciari italiani, ad eccezione di quelli che sono già partiti o stanno preparando le Olimpiadi, ma si devono giocare lo scudetto anche su questa tappa di Montesilvano che rappresenta una delle otto tappe nazionali, quindi una tappa assolutamente importante. Noi ringraziamo la federazione che ci ha dato la possibilità di aiutare, crediamo che sia importante in questo periodo, come privati, dare un aiuto a tutte queste manifestazioni che devono riportare sul nostro splendido territorio, la pallavolo sia a livello indoor che a livello, ovviamente in questo caso, beach. È una manifestazione importante, giocata in un posto meraviglioso, che si presta a questi tipi di eventi, quindi benvenga da parte nostra la volontà e la voglia di dare una mano.